E sua maestà il timballo, il re dei piatti della tradizione gastronomica teramana, rigorosamente di scrippelle, l'assoluto protagonista della settimana che si svolge dal 28 luglio al 3 agosto a Floriano di Campli. Un fiore dell'occhiello per il comune di Campli ma per l'intera provincia di Teramo e noi come amministrazione diamo e abbiamo dato il massimo appoggio affinché questa amministrazione riesca al meglio e speriamo che ci sia un afflusso di gente maggiore rispetto allo scorso anno. Torna così in versione ampliata la terza edizione della Sagra del Timballo Teramano che oltre all'intramontabile ed elaborato primo piatto nostrano propone tante altre specialità gastronomiche e prodotti tipici locali che si potranno gustare presso gli stand aperti ogni sera in piazza anfiteatro dalle ore 19 e 30. L'auspicio dell'amministrazione ma di tutta Floriano è quello che ci sia un afflusso di gente maggiore in una piazza bellissima, una piazza anfiteatro che rappresenta un'opera bellissima e rappresenta l'esempio di un paese che si impegna per valorizzare la potenzialità del territorio. L'appuntamento è dal 28 luglio al 3 agosto, tutte le sere musica dal vivo e prodotti tipici. Il primo prodotto è il timballo e il re timballo, poi tutti i prodotti tipici dell'Abruzzo, dal rosticino al farmaggio fritta. Poi ci saranno tutte le sere degli piccoli eventi ed è un grande event di Tequila Band. Poi ci sarà Liscio la terza sera, la quarta sera avremo musica per gli appassionati di rock, avremo musica per gli appassionati di disco music, abbiamo musica per la scuola di ballo per il latino americano. Avremo una piccola cover di ragazzi che suoneranno Lucio Battisti.